Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul canale, come va? Spero che state bene e che siate trascorrendo una splendida giornata. Dopo il video che ho realizzato stamattina appunto su Emil Bohinen, in questo qui non voglio parlarvi di calcio, comunque è il weekend, il calciomercato un pochino si ferma perché ci sono i campionati e quindi insomma non mi piace portare un contenuto giusto per. Però mi è venuta in mente un'idea e qui voglio chiedere un pochino il vostro parere. Mi sta venendo la voglia, il desiderio, di parlare anche un pochino di calcio estero, quindi di temi importanti per chi insomma non mi conoscesse. Adoro ad esempio molto i campionati scandinavi dove ci sono anche molti talenti, molte squadre che puntano sui giovani e comunque si possono trovare dei punti, dei spunti interessanti anche in quei campionati. Quindi nuovamente non solo trattare magari anche di un tema della Bundesliga o della Premier League, perché comunque vi dico, parli sempre di Serie A o comunque di calcio italiano, vero e bellissimo, è un contenuto che mi piace portare, anche perché vedo la vostra reazione, la vostra partecipazione, e quindi vi ringrazio appunto per questo. Di contro però mi piacerebbe anche un pochino staccare dalla Serie A, dall'Italia. Quindi sto pensando, quindi fatemi sapere voi, appunto di portare anche dei contenuti in rente campionati esteri. Perché secondo me potrebbero dare anche una piccola sferzzata al canale, nel senso comunque anche per voi non vedere sempre le stesse cose e sul Genoa, e sul Torino, e sulla Juve, e sull'Inter, e sul Sassuolo, insomma sulla Serie A in generale. Quindi magari può essere anche un pochino di stimolo, anche perché ripeto, magari non tutti voi siete soltanto, non so, appassionati soltanto di Serie A, e magari non soltanto di quella X-Squadra, però magari anche di altre tematiche riguardanti il calcio, o magari di altri campionati, o magari di giovani giocatori, o magari di sapere quali potrebbero essere i migliori giocatori della Bundesliga che io vedrebbe in Italia, giusto per dire, no? Quindi ecco, mi appello a voi. Voglio seguire un vostro consiglio. Voi, o meglio a voi, piacerebbe vedere sul canale un contenuto riguardante o il calcio oltre la Serie A, o comunque riguardante anche i campionati esteri, e magari qui voi potete anche dare un consiglio, potete scrivere una vostra tematica, un vostro dubbio, tutte queste robe qui. Vi lascio con questa cosa. Quindi ovviamente, mi raccomando, qui sotto commentate, perché insomma, in base alle vostre decisioni prenderò una mia decisione, perché non voglio portare una cosa che poi mi vada ad annacquare il canale quando poi non non servirebbe. Quindi per cui, qui sotto, rispondete a questo quesito. Volete sul canale anche dei temi riguardo il calcio estero? E magari scrivete anche una vostra idea. Firmando abbraccioni, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanina che è molto importante, e supportate i video e i serie gameplay. Firmando abbraccioni, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!